Salve a tutti, Wachikbari, io sono SuperGiomaster e benvenuti in questo video un po' particolare che non sono sicuro che farà un po' di visualizzazioni ma tanto chi se ne frega dai beh, io vi parlo spesso di cartoimati ma i personaggi per comunicare ai spettatori hanno bisogno di una voce ecco che ci sono i doppiatori in questo video ho deciso di farvi vedere la differenza e il confronto tra il doppiaggio in inglese e il doppiaggio in italiano prima appariranno i personaggi doppiati in inglese e poi in italiano e si, metto anche i nomi dei doppiatori sono sicuro che tanti di voi nei commenti mi direte aspetta, che cosa ha detto quel personaggio in inglese? no, i sottotitoli in italiano non appariranno ok? perché se no poi si rovina tutto, è uno schifo tremendo questo è un video così per divertimento vabbè, iniziamo I love Bikini Bottom hey, I can use this net to catch jellyfish and throw them at those annoying critters with this coral blower Gary è arrivato il giornale puoi prenderlo tu perché a me interessa solo questo elastico sono una spugna davvero felice right here, next to me the floating people with the wings and the wands would it help if I pointed? mom, dad this is Cosmo, Wanda and Pooh mi ricordo che ci giocavo quando avevo 5 anni e questo è Gary, il mio amico immaginario un tipo fantastico prima che avessi voi due, giocavo sempre con lui tutto il tempo qui siamo io e Gary sull'altalena qui con Gary picchiavamo il mo- dang it I can't get this done by myself I need a team of people the hero cat saves the day again if I can't do it by myself I just gotta increase the staff the plan is simple I'll just go forward into the future no vita ma che cosa ti è successo? dai, su, coraggio cerca di alzarti in piedi devo aver sbagliato a dargli i zuschi invece di dargli le gocce che lo rendevano invisibile agli occhi degli altri gli ho detto le gocce che hanno reso ok, that does it screw you guys, I'm going home ok, that's it screw you guys, I'm going home screw you guys, I'm going home screw you guys, home oh, damn it oh, not again complimenti mamma mi hai proprio messo nella merda tu hai detto che devo aspettare il mio compleanno per avere un iPad oggi mi sono vantato con tutti di averne uno ma è finto e così domani diranno tutti che sono un bugiardo ti dispiace prestarmi il tuo rossetto mamma perché almeno voglio farmi bello per la prossima volta che decidi Darwin have you seen that DVD anywhere I... Darwin what are you doing? that's not the pizza counter that's a DVD oh, give me that oh, man you really have to be careful with these things the slightest scratch and they're ruined ricorda Darwin da oggi in poi noi dobbiamo dire solo la verità beh, e tu quando pronunci la S sembra che fischi allora tu quando dormi fai una faccia così tocca a me ricamo la principale ok, tra noi abbiamo finito ora portiamo la verità al mondo tu non hai le mani good afternoon my name is Twilight Sparkle oh, hello everypony I'm Princess Twilight Sparkle wow everypony is enjoying themselves in Ponyville I can't wait to meet them I'm here to learn everything about French si, va tutto bene andrà tutto bene non è ancora finita ma presto tutto finirà oh, che tra poco sarà finita la mia vita Ponyville i miei studi alla biblioteca no, no sono una brava studentessa io ce la posso fare hey, Flanders gas up your leaf blower much? oh, chickens? since when do you have chickens? mmm oh, so orange I'm sorry, I can't eat the se c'è una bistecona devi darle filo se la polpette è buona devi darle il filo il filo devi darle tadla solo un momento figliolo devo mettermi le lenti a contatto sono Homer l'ha detto al countdown cinque quattro tre hey, hey, everybody it's me, Mickey Mouse say, you wanna come inside my clubhouse? well, all right let's go oh, I almost forgot to make the clubhouse appear we get to say the magic words me hey, la salve sono io, Topolino allora, vi va di fare un salto nella mia casa? ah, sì grandioso su, andiamo me ne ero quasi dimenticato per far apparire la mia casa dobbiamo dire la parola magica don't you see what's going on here? it's epidemical double D's magnifying glass Sarah's doll someone or something is touching everybody's stuff we gotta spread the word mi son inventato tutto quanto doppia D quello che ho detto di mio fratello era tutto una bugia me lo son inventato così la gente mi avrebbe considerato un ganzo invece mi sbagliavo la truffa mio fratello questo you know learning what kind of moves to use is an important part of training so why don't you try using a different move for a change quiet don't you think I already know that? what I'm trying to say is that if you don't battle like it's for real Axie won't ever get strong sono pronto per addestrare un Pokémon so, professore in me ci ha voluto molto tempo per decidere ma alla fine ho scelto Squirtle vorrei non aver dormito troppo allora sceglierò come mio Pokémon Bull everything about me is this carefully constructed persona designed to keep people at arm's length this isn't even how I really talk this is this is how I talk the accent is nothing more than an affectation a coat of armor to get me through the il dispositivo per il controllo della mente è quasi ultimato al diavolo vecchio arterio mi boicotti il lavoro dal giorno in cui sono evaso da quel tuo rudere di utero e fido io quello era il giorno della mia vittoria la realizzazione di un piano lungamente studiato per fuggire da quella tetra bastiglia con le ovaie ok ragazzi questi sono dei personaggi doppiati in inglese e anche in italiano sicuramente molti di voi siete più affezionati alle voci italiane ma secondo me anche ascoltare quelle in inglese è comunque bello è figo ditemi nei commenti quale personaggio secondo voi è doppiato meglio in inglese o meglio in italiano boh non si sa bene gente questo è tutto e quindi ciao ciao uehi